Sì, stavo facendo un'altra live, non ho dato che sto qua. Non lo potevo neanche sentire, stavo facendo il suono dell'ambulanza. Salve. Bru. Sì? Facciamo uno di uno. No. Mi ha insultato perché non mi volevo fare crashare di nuovo. Non volevo far crashare di nuovo. Ma io, non so, non è con le persone che si fa fare il crash così velocemente. Ti mi volevo fare crashare di nuovo. Facetto. Eh, che è il migliore. Gio, ne si ti più. XT più. Grazie. Grazie mille Rosanna. Grazie mille. 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 In attesa di qualcuno In attesa di qualcuno In attesa di qualcuno In attesa di qualcuno Grazie a tutti. Ciao, Rappio. Nice. Ciao, Rappio. Vabbè, sai che sei andato via. Ah, no, sei andato qui. È sì l'unico. Sennò ti chiedo se vuoi farti il problema. Quello, nell'inizio live, quello che mi ha fatto crashare, mi è venuto e ha detto se vuoi fare uno più uno e poi gli ho detto no e lui mi ha insultato malamente. Ok. Va bene. Noi. Ma adesso stai man grande, quindi... Da qua non fai mai andato. Noi. Così, così... Ah, è... Ok. Ok. Cerno more. Cade? Cerno more. Ok. Cerno more. Cerno more. Cerno more. Cerno more. Ah, è tutto albor. Coga? Cerno more. Coga? Cosa. Cosa? 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 e va beh ma one shotato poi dicono che non è forte sto pompa non c'è? da 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora questo invece... Eh vabbè, mi potevamo anche conciuttare con questo. Ah, che nemmeno... Già che l'altro? Già che l'altro? Ah, che nemmeno... Eh, quello è vero, non ti posso dare torto. Non so se c'è qualcuno... Ma dai, sono da solo, vabbè... Mi lutto tutte le case. Ah no, c'è anche qualcun altro. Seriamente? Pensavo fosse un pompa questo. Oh, almeno un pompa. Oh, per me... Oltre un'occol bomba mitica 00 gmail si è fatto a 30 eeeh che schifo mi sa che era l'unico ah no sento qualcuno bulldare figurati se era comune sarà comune 0 what come 0 impossible 0 però sicuro era almeno un danno lo pagherò dai squaletto da una massa e tu che cusca facky bussens questo piccone fa schifo sto pompa volevo dire un po' guarda pura spammato Alla prossima 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 A 100 Alla prossima 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 Salve Alla prossima 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 Cioè Facciamo inizio Alla prossima 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 non attendo famig si guarda ti faccio vedere come hai detto le cubole vieni un attimo che ora allora facciamo le macro vieni guarda perché si approccia secondo me sei forte ok però secondo me non vuoi entrare niente perché solo perché ho le macro secondo me non vuoi perché secondo me sono troppo scarsa aspetta uso 30 milioni aspetta aspetta stavo prendendo ma comunque non ho capito perché non sono nel team sei nel team sei nel team se vuoi entrare dentro non ti sento un attimo ok parla non ho capito sei dentro sì sei dentro secondo me non ci vuole se ti dicessi che il provino era fake e non entrerò mai in un team cosa? se ti dicessi che il provino era fake e che non entrerei mai in un team chi lo diceva questa cosa? no 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 è solo un'ipotesi io in realtà non voglio cioè voglio entrare perché sei simpatico però sei scarso certo devi andarci anche un po' di AR e migliorare le edit la ta build ci sta ci sta devi solo migliorare l'altra roba boh faccio l'ultima fight da 그다음에 cappa ed alia sono scarso ULUS no ha pele ho iniziato da un donna o da demnine cappa no baba è bella bella Ok. 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 me l'hai già mandata la richiesta questa che ti ho accettato adesso sei yuk ok hai già accettato la richiesta ho già accettato la richiesta no non sono ok perfetto il gruppo di è ovvero io sono lì ma perché non io 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 ok va bene è 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 mi ricordo momenti che mi sono messo fortnite e va bene però mi entrano ciao Salve Salve Lei non parla, va bene Bon Bon Eeeh 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 Mettila tu la mappa, voglio Eeeh 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 Noi Eeeh Non Eeeh 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 Entraci, entraci, entraci Mamma mia Mamma mia, ci è veramente entrato Addio gulanto pronti Ma, ma, per, come Com'è che non crash Luke05, com'è che non crash Se mi crash la live E' colpa vostra, eh Ma questa è quella che fa Crashare Ecco, ma è già Lo sapevo che Crashava Oh Raga, io vi dico Io vi dico un bel Addio Per questo Per questa live Ciao Ciao Io vi dico un bel addio Ciao Io ci entro Però vi dico un bel addio Ja, lo sapevo oh